Salve a tutti e benvenuti al tutorial numero 24, almeno credo, sul linguaggio Python In questo tutorial continuiamo a vedere la nostra libreria Kinter per creare interfacce grafiche Vediamo innanzitutto come creare dei layout Per creare dei layout abbiamo bisogno di un oggetto, che è il frame E vediamo subito un esempio, così vi sarà abbastanza chiaro Vediamo di creare un top frame Un bottom frame, che sarà il nostro frame superiore E un bottom frame, che sarà il nostro frame inferiore Qui dobbiamo sempre chiamare pack su qualsiasi oggetto grafico che andiamo a creare per la nostra interfaccia Quindi top frame lo inizializziamo con un oggetto di tipo frame E lo impacchettiamo La stessa cosa per bottom frame .pack Soltanto che all'interno di pack andiamo a dire sostanzialmente A python che questo frame deve essere posizionato sul lato inferiore bottom Quindi andiamo a creare dei pulsanti E andiamo a creare due Tramite la variabile button Che riceve come primo parametro sempre root No scusate il frame in cui inserirlo Uno lo inseriamo nel top frame, l'altro lo inseriamo nel bottom frame Quindi uno sopra e uno sotto Il secondo parametro è il testo E qui scriviamo bottom one Qui bottom two E gli assegniamo un colore Così tanto per averlo ben in vista FG sarebbe foreground Quindi colore principale sostanzialmente Qui purple Ok Sempre bottom one .pack Andiamo ad avviare E questo è il nostro risultato Bottom one è nel top frame Quindi nel frame superiore Bottom two è nel frame inferiore In questo modo ovviamente si possono organizzare vari layout Andiamo per esempio a creare altri due pulsanti Faccio un bel copiancolla di questo Ne mettiamo tre sopra e uno sotto Questo è tre Questo è quattro Questo qui gli diamo un colore arancione Questo qui Questo qui green Gli diamo il verde Sempre bottom three .pack Bottom four .pack Possiamo decidere Di mettere I tre pulsanti di sopra Tutti allineati a sinistra Tramite la variabile side E con il valore left Che appunto sinistra Stessa cosa per Il bottom three E il bottom four In questo modo avremo come risultato Questo Uno, tre e quattro sono allineati Diciamo il layout Questo è il layout che viene generato in automatico E sono tutti e tre allineati a sinistra Ovviamente Considerando che Qui c'è un altro pulsante Questo qui è allineato a sinistra Soltanto che Alla fine dei conti Andrà a risultare al centro E questo qui Dovrà allinearsi a sinistra Considerando che ci sono già due pulsanti Risulterà allineato a destra Ok Anche per questo tutorial è tutto Abbiamo visto i layout Ovviamente creeremo anche qualcosa di più Complicato Complesso E anche qualcosa di più utile E vedremo come dare poi Assegnare dei metodi Al click del pulsante E così via Io vi rimando al tutorial successivo Se vi è piaciuto Lasciate un like O un commento